Allora essi gridarono di nuovo, non costumi ma barabba. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga e floresta, sia fatta la tua volontà, come il cielo così in terra. Anzi, agi a Sud, chiamiamo, amati a Dio, e 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 a Dio. E a Dio, e a Dio, e a Dio, e a Dio. Magli usa la Dio, e a Dio. Al nome di Gesù aggiungiamo, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato. Ave Maria piena di grazia del Signore con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù che tu sta gelato per noi Ave Maria piena di grazia del Signore con te Ave Signore con te Ave Maria piena di grazia del Signore con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù che tu sta gelato per noi Ave Maria piena di grazia del Signore con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù che tu sta gelato per noi Ave Maria piena di grazia del Signore con te Tu sei benedetto è il frutto del tuo seno